Firmata in Sicilia a Palermo la Convenzione dei diritti del Mediterraneo il 19 marzo scorso, Caltanissetta presente con il Movi e la Casa delle Culture del Volontariato insieme ad 80 altri rappresentanti di 20 paesi. Sindaci di Sicilia, Sardegna, numerosi attori del terzo settore e personalità della cultura e dell'associazionismo, Israele, Palestina, Libia, Turchia, Libano, Spagna, Bosnia, Francia, Malta, Grecia, Irak, Siria, Marocco, Egitto, Tunisia, Algeria, Albania, Macedonia, Kurdistan e Italia. Questi i paesi firmatari di una carta che sancisce un patto per la creazione di una rete permanente di confronto e collaborazione. La Convenzione dei diritti del Mediterraneo è un documento elaborato dal basso in quasi due anni, 14 temi trattati per ridare centralità all'identità mediterranea e farne uno spazio creatore di umanità, democrazia partecipata. Dice il presidente del Movi, Nisseno e della Casa delle Culture e del volontariato, Filippo Maritato, importante esserci per fare parte di questo grande progetto sociale e culturale. Per la costruzione di questa rete umana, democratica e solidale, oggi più che mai è fondamentale costruire e consolidare il dialogo tra i paesi.